Abbiamo rinunciato all'impugnazione, è stata una scelta processuale, i colleghi stanno discutendo il riesame che hanno coltivato e quindi probabilmente avranno più cose da dirvi. Avvocato, lei adesso andrà da Valerio del Grosso, che cosa gli dirà? Ha intenzione di parlare? Io con lui o lui? Lui con la Vigola. Era un'idea che comunque sia era paventata, stiamo continuando a leggere le carte e arriverà il momento che renderà l'interrogatorio. Le ha chiesto al suo assistito che fine ha fatto la pistola, perché è quello che ci chiediamo un po' tutti, no? Però queste sono domande che non... è la seconda volta che mi si fa domande. Se me l'ha chiesto non gliel'ha chiesto, soltanto questo. Io all'assistito? Sì, gliel'ho chiesto. Ok, va bene. Lo ringraziamo. Grazie, avvocato.